Tratto dal libro Come addestrare un drago, scritto nel 2003 da Cressida Cowell, How to trade your dragon è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2010, rispotendo un grandissimo successo, tanto da meritare due sequel, uno nel 2014 e uno nel 2019. Prepariamoci dunque a volare insieme al giovane Icap e al suo drago sdentato. A voi, how to trade your dragon. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.